no 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 ragazzi non vi preoccupate siamo vivi siamo vivi giustamente non stiamo portando video più spesso perché il camionato si è fermato senza camionato è una schifra una schifo però siamo vivi siamo vivi stasera a mezzanotte probabilmente qualche live perché uscirà fifa 23 se vogliamo fare qualche carriera scrivetelo nei commenti qualche ultimo al team fatemi sapere perché esce fifa però per il resto ragazzi non vi preoccupate siamo vivi siamo vicini intanto ha vinto la meloni la meloni fatemi sapere cosa ne pensate della meloni questo tre come so ignorante non ne conosco di politica ok però so per certo che tutti quelli che percepivano il reddito adesso saranno come i pazzi ma io mi chiedo una cosa no se voi eravate contro la meloni perché insedito a votare perché non siete andati a votare e avete fatto vincere la meloni voi del reddito adesso parlando del reddito perché poi c'è anche chi non lo percepisce e chi ha bisogno questo sia chiaro poi ragazzi io non mi sape di dire giusto è sbagliato ci accappottiamo non ci accappottiamo questi sono cose che le lascio agli altri io secondo me la ragazza è determinata però si deve vedere poi nella politica sai sono tutti uguali poi mangia mangia capisci a me quando si entra poi si cambia perché devi andare d'accordo con quello con quell'altro non si capisce niente detto questo siamo vivi sempre forza juventus un altro infortunato in casa juventus catti catti in nazionale si è infortunato anche lui vlaovic vince con la serbia giocatori che nella juve fanno fatica giocano un gran calcio nelle loro razionali la francia ha perso la spagna ha perso quindi ragazzi sta nazional per come la penso io ronaldo ha preso una botta ci hanno scassato tutto il naso buona guarigione a cr7 messi ha vinto 3 a 0 l'argentina doppietta una su rigore una su azione di pallonetto in gol l'autaro martinez e poi chi c'è più chi c'è più c'è più c'è Kulusecki che ha fatto le dichiarazioni alla juve una miglior scelta Kulusecki ricordati queste parole perché se poi viene Conte e tu torni alla juve io lasciamo stare voglio essere volgare iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace siamo vivi siamo vivi forza fino alla fine forza ci vengono ciao belli